Condotto da Ilari Blasi, il reality ha visto finire al televoto Andrea Cerioli, Roberto Ciufoli e Ignazio Moser. Quest'ultimo, nonostante abbia vinto il titolo di leader Salvador Uomo, non è stato esente dalle nomination. Una decisione che Cecilia Rodriguez non sembra aver gradito. La sorella minore di Belen ha recentemente pubblicato alcune Instagram Stories sul proprio profilo, sfogandosi contro la produzione. Ecco dunque cosa è successo. L'Isola dei Famosi 15, Cecilia Rodriguez non ci sta esbotta contro la produzione, puntata ingiusta. Il diciassettesimo appuntamento dell'Isola dei Famosi ha assistito all'uscita di Emanuela Titocchia. La concorrente ha infatti perso il televoto, finendo a Playa in Bosca di Sima insieme a Francesca e Beatrice. La showgirl, tuttavia, ha abbandonato la palapa, uscendo infine dalla gara. A seguire il programma, ieri sera 14 maggio è stata anche Cecilia Rodriguez. Pronta a sostenere Ignazio Moser, l'ex GFINA ha manifestato, attraverso alcune Instagram Stories, la sua gioia nel vederlo trionfare nella prova come leader. Ciò nonostante, il naufrago è finito al televoto insieme a Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. Poco fa, la più piccola dei fratelli Rodriguez ha condiviso, sempre sul suo profilo social, alcune storie al vetriolo contro la produzione. L'ex GFINA si è mostrata alquanto contrariata, affermando che quella di ieri sera sia stata una, una puntata ingiusta. Cecilia Rodriguez ha poi proseguito il suo sfogo, tuonando. Volevo parlare un po' con voi per sapere cosa ne pensate di questa puntata abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia dell'isola dei famosi che un leader vada in nomination. Io a questo punto non farei nessuna prova. Insomma, l'ex GFINA non le ha di certo mandate a dire alla produzione.